Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite, capitolo 4, stagione 4, stiamo entrando nella quinta settimana di questo capitolo, di questa stagione. Oggi è lunedì 25 settembre 2023, il contest di oggi è dedicato a questa skin, se raggiungiamo i 50 like al video e i 1000 iscritti scrivete nei commenti il vostro account perché estrarrò a sorte tra i commenti. Se raggiungiamo i 50 like al video e i 1000 iscritti, uno di voi riceverà questa skin con due stili Milite Trinity del capitolo 2, stagione 6. Dunque amici, oggi parliamo di Escape Room 300 livelli per fare un sacco di punti esperienza grazie a questa Escape Room. Io vi lascio nel video il tutorial, fatemi sapere cosa ne pensate di questa mappa, se vi piacciono anche a voi le Escape Room, io le trovo davvero divertenti in modo da potersi divertire livellando in alternativa ai soliti metodi e solite mappe glitch. Quindi io vi lascio al video, anche perché è abbastanza lungo, perché era la mia prima run e quindi mi sono incartato in alcune stanze, però devo dire che nel complesso di 300 livelli sono molto semplici, a parte magari un paio che sono un po' macchinosi, ma scorre tutto velocemente e si livella abbastanza bene. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, condivete il video con i vostri amici, se volete farli livellare anche voi e io vi auguro buona visione e vi ringrazio per il supporto. Grazie a tutti. 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 a tutti.